salve e benvenuti a tutti in questo nuovo video di preparazione al concorso scuola 2021. In questa diretta si parlerà delle strategie e delle metodologie didattiche relative alla creatività. In realtà già qualche metodologia didattica relativa alla creatività è stata affrontata nello specifico il concassage, se vi ricordate la frantumazione del problema che veniva esaminato da tanti punti di vista diversi e a volte anche insolidi. Per introdurre le strategie didattiche, le strategie e le metodologie didattiche correlate nello specifico alla creatività è importante tornare indietro di pochi anni questa volta nel 2009 che è stato l'anno europeo della creatività e dell'innovazione. Questa domandina potrebbe anche uscire per la prova preselettiva quindi anno europeo della creatività e innovazione ed in particolare dobbiamo fare riferimento a Jean Figele che era l'allora commissario per dell'istruzione dell'Unione Europea. Il quale essenzialmente dichiarò di voler promuovere approcci creativi e innovativi soprattutto all'interno del mondo scuola, all'interno delle metodologie didattiche, desiderava dotare l'Unione Europea di strumenti per affrontare un mondo globalizzato e per raggiungere tali obiettivi egli essenzialmente desiderava aumentare il potenziale creativo e innovativo dell'Europa. Metto virgolettate le sue parole La creatività è la capacità di innovare. Ecco perché creatività e innovazione è la capacità di innovare puntini puntini è presente in ognuno di noi vi ricordiamo in numerose situazioni ed occasioni sia che siamo consapevoli sia che non lo siamo e a quel punto decise di promuovere essenzialmente l'anno addirittura della creatività ci sono stati diversi concerti diversi eventi che poi hanno preso luogo nel 2009 allora tutta questa introduzione perché a questo punto sicuramente si può affermare che l'apprendimento la conoscenza e il sapere in questo caso io dico solo l'apprendimento però sappiate che non è solo l'apprendimento è finalizzato a leggere il mondo quindi a prevedere gli eventi che caratterizzano la nostra vita a comprendere e prevedere gli eventi ma anche a saperli fronteggiare durante l'imprevisto durante un'emergenza proprio in questi giorni sto vivendo tante tante difficoltà questa parola forse è abbastanza significativa la discontinuità e quindi il cambiamento riuscire quindi a a dare apprendimento della materia e a dare un metodo che sia uno strumento per gli studenti per fronteggiare soprattutto quei luoghi che sono più difficili per noi quindi quei luoghi che escono dalla zona di comfort quei luoghi che sono pieni di imprevisto di situazioni disarmanti che sono anche le condizioni imprevisti che in realtà diventano costitutive del nostro tempo mi viene da pensare a quante volte ho sentito da parte vostra il sopraggiungere di difficoltà inaspettate che poi modificano e cambiano ogni progetto ogni tentativo di gestire e di pianificare il tutto ed ecco che nasce l'esigenza di avere nuove competenze e nuovi significati che sono che tendono verso un'apertura flessibile e quindi a questo punto possiamo ben dire che le strategie e le metodologie didattiche creative sono decisamente importanti in questo panorama perché stimolano l'intuizione l'intuizione dello studente ponendolo alla stregua alla stessa stregua del ricercatore di chi individua il problema lo analizza sceglie gli strumenti per risolvere ovviamente il problema stesso cerca soluzioni originali soprattutto se il problema è nuovo in funzione anche della propria personalità ed ecco perché poi diventa fondamentale anche la personalizzazione dell'attività didattica giusto per farvi un esempio delle strategie creative più famose via il brainstorming di cui poi potremmo fare un video vi cito Alex Osborne vi è anche una metodologia chiamata imparare a dire bugie via il concassace vi sono veramente alcune le avete anche citate voi quindi tutte queste metodologie che sicuramente stimolano un apprendimento creativo ovviamente si deve anche parlare di eduard ebono tutti coloro insomma che cercano di stimolare la possibilità di trovare delle soluzioni non conformiste delle soluzioni anche inusuali che ci permettono di risolvere dei problemi nuovi bene potete lasciarmi qualsiasi commento io vi ringrazio vi auguro una buona continuazione di giornata e a presto arrivederci al prossimo video